Assessore di Giovanni Giacomo, sul caos ZTL, caos per i cittadini, quali saranno le multe che verranno annullate? Annullate nulla, sono state non emesse tutte le sanzioni che abbiamo voluto tutelare anche le persone che avevano la vecchia autorizzazione prima del nuovo regolamento, dove la proroga era stata fatta d'ufficio fino al 31 marzo di quest'anno. Abbiamo inserito ulteriori 1100 targhe che hanno scaturito una riduzione di sanzioni di 3000 multe di coloro che avevano la vecchia autorizzazione e ancora non avevano rinnovato quel nuovo regolamento. Sono queste tutte le multe che arrivano o in un modo o nell'altro perché non hanno assolutamente diritto di entrare nella ZTL, non avevano né la vecchia né la nuova autorizzazione, questo è il dato di fatto. Quindi per più chiarezza ai cittadini, chi ha ricevuto la multa a casa non verrà annullata? Si parlava di quasi 3000 multe che verranno annullate. Sono state annullate quelle che avevano la vecchia autorizzazione, anche i residenti che non erano fatti in tempo, non hanno voluto per qualche motivo rinnovare, dunque abbiamo ritenuto fino al 31-3, poi dal 1 aprile, ripeto fino al 31 marzo perché il rinnovo d'ufficio da parte dell'amministrazione al 24 dicembre 2014 era il 31-3. Dunque abbiamo voluto tutelare anche i cittadini che per qualche motivo non avevano rinnovato l'autorizzazione e fino al 31-3 sono state annullate tutti coloro che erano in possesso anche di autorizzazione precedente. Mentre tutti quelli che arrivano o per un motivo o per un altro hanno persuaso quelle che erano le finalità del regolamento della ZTL, cioè o sono entrati privati completamente di autorizzazioni o sono entrati fuori orari in base agli orari consentiti da parte del regolamento.